Non è assolutamente una prova di forza, non siamo così arroganti da dire queste cose. È la prova che il lavoro paga, che l'umiltà, tenere la testa bassa a fare le nostre cose a Maranello e qua in pista paga. Abbiamo due grandi piloti, una grandissima macchina, dei ragazzi stupendi e quindi godiamocela.